Solo per dirvi due cose. La prima cosa, durante l'esame al Senato è venuto in audizione il presidente di Confindustria, Squinzi, e si augurava che i parlamentari non facessero l'assalto alla diligenza. Peccato però che si è dimenticato di dire le stesse parole allo stesso governo, perché stiamo vedendo cosa sta facendo. Molti dei nostri emendamenti che avevamo presentato li avevamo ritirati proprio perché il governo ci aveva dato rassicurazioni che qua alla Camera venivano affrontati e invece oltre al fatto di non essere stati affrontati ci troviamo un provvedimento come sono le misure territoriali, soprannominato decreto Marchette, dove il governo ha avuto a disposizione 800 milioni e ha distribuito 50 milioni a destra, 50 milioni a sinistra, 10 milioni di qua, 100 milioni di là. Solo per farsi uno spot elettorale.